Continua il nostro tour e si incontrano sempre più cittadini, sempre più splendidi perché siamo qui in compagnia di Silvana Di Nicolò, portavoce alla Regione Lazio. Silvana, che cosa dici a quelli che stanno a casa per gli eventi futuri? Beh, certo, in questo evento non è che si possa dire molto di più perché è bellissimo, è perfetto, c'è l'incontro con i cittadini, però per il futuro vi posso dire che vi dovete attivare perché noi da soli non ce la possiamo fare. Il Lazio ha tantissime competenze, voi neanche ve lo immaginate, la sanità, la formazione, il lavoro, tantissime competenze e stanno decidendo sulla vostra pelle, quindi vi chiedo solo di attivarvi, cercate di contattare il gruppo del Movimento 5 Stelle più vicino a voi e attivatevi. Ciao!